Buongiorno a tutti carissimi e bentornati in questo spazio di riflessione e condivisione. Quest'oggi rispondendo alla decima domanda, sempre sullo stesso tema, facciamo una riflessioncina sui contenuti del pensiero di Mauro Biglino. Penso che lo conoscerete, molti di voi lo conosceranno, perché almeno in rete è molto molto seguito, ho visto soprattutto su YouTube mi pare. Ha scritto diversi testi che oltretutto, almeno mi pare, abbiano riscosso un discreto interesse. Mi avete chiesto cosa ne pensi, cosa ne pensi, perché Biglino sapete che parla di Bibbia, di Vangeli, di Dio, in realtà no, di Bibbia. Antico Testamento, Nuovo Testamento. E quindi ho commentato in passato Vangeli, capisco la domanda. Ho risposto brevemente ad un'amica su Facebook, mi sono arrivate ancora domande. Ah, ma hai ascoltato, conosci Biglino? Bene, facciamo due pensierini su Biglino. Premetto che di solito io amo parlare solo di coloro che amo e al massimo criticare persone di rilevanza collettiva, politici che legiferano, quindi osservare criticamente, vedere cosa combinano, è rilevante dal mio punto di vista. Il Papa, le bergogliate, il Papa è la spiritualità per alcune persone, influenza enormemente, illumina o condiziona, vedete voi, le nostre vite. Allora ogni tanto non sono riuscito ad esimermi dal commentare alcuni suoi passaggi, alcune bergogliate. Però prendere persone famose, che magari sono famose soprattutto nella rete o in generale, e usarle unicamente per raccogliere, per creare attenzione, per avere iscritti, non lo so, è una cosa triste, cioè la mia strada è la mia strada. Se il passaparola si espande, bene, e se no male, male per tutti noi. Comunque, a parte questo, Biglino è un po' borderline, mi avete chiesto molto di scambiare due parole, dico che è borderline, cioè non lui, questo video è ai limiti, perché in parte mi interessa e in parte non mi interessa. Allora proviamo a spiegarci, non mi interessa perché a un certo punto proprio deraglia completamente e va fuori tema, secondo me, però è lo stesso motivo per cui ne vale la pena scambiare due parole, perché il suo prendere i testi sacri antichi e trasportarli in un mondo extraterrestre, praticamente, adesso vedremo, è un ennesimo assist alla chiusura della consapevolezza interiore. Abbiamo parlato del transumanesimo, lo scientismo, quanto tonde le persone e le porta sempre più focalizzate, identificate al mondo esterno, i fenomeni fisici, sensoriali. Arriva anche Biglino che ci parla degli extraterrestri. Allora, proviamo a riassumere in brevissimo. Non ho letto suoi testi, ho letto solo, ho ascoltato delle conferenze, quindi ho l'arroganza di dire, ho intuito dove va. Poi non mi è più interessato. Se voi avete maggiore competenza e sbaglio qualcosa, scrivetelo sotto. Allora, Biglino sostiene che l'Antico Testamento, mi sembra soprattutto che si focalizzi sull'Antico Testamento, sapete che la Bibbia è composta dall'Antico Testamento, cioè tutto ciò che è della cultura ebraica prima della venuta di Cristo, e il Nuovo Testamento che sono i Vangeli sinottici di Gesù Cristo. Biglino dice che l'Antico Testamento, quel testo che vedete spesso, sapete nei film, è che c'è sempre il personaggio, che mi ricordo Man on Fire, è il personaggio introverso, cupo, ma affascinante, che snocciola memorie della Bibbia, che è una sberla così di libro, sa tutta memoria e cita, che ne so, quellet, fa quelle citazioni. Ecco, quel testo lì è il focus della filosofia biglina. La cosa curiosa è che, lo dice anche lo stesso Biglino, la maggior parte delle persone non legge, non conosce l'Antico Testamento e nemmeno il Nuovo Testamento, i Vangeli. Ha sentito commentare a messa. Come mai tutto questo interesse? Beh, il motivo è che Biglino fa un'interpretazione estremamente moderna, appunto, estroversa, mettendo cose molto popolari di oggi, addirittura gli alieni, l'ibridazione genetica, e ha risvegliato, quindi, l'interesse ad un testo che prima era totalmente ignoto, si sapevano dei frammentini. Il perché questo testo abbia così forza è che, in realtà, è inconscio dentro di noi. Da quando siamo piccoli, qualche citazione, la Bibbia, film che, appunto, cercano di interpretare messaggi particolari di questi antichi testi. Quindi fa parte del nostro inconscio. Del nostro inconscio, in un certo modo, fanno parte tre filoni dell'antichità. La filosofia antica greca, a partire da Nassimandro, Nassimene, tutte le filosofie della Fiusis, i naturalisti. Poi abbiamo l'ebraismo e l'Antico Testamento, e l'ebraismo, scusate, e la religione, la parola di Cristo, dopo la venuta di Cristo. Siamo anche stati molto influenzati dall'Islam, dai turchi, però non si può dire che l'Occidente abbia una grande influenza. Sono soprattutto alcune zone di confine, penso ad esempio i paesi balcanici, che conosco molto bene. Allora, dentro di noi, nel nostro inconscio, anche il nostro modo di ragionare, oddio, sempre meno ragioniamo, però le basi sono quelle. La lasciate, perché le hanno sempre interpretate i preti a messa. Le cose... Biglino fa questo bel lavoro, questo glielo riconosco, di renderlo giovanissimo, accattivante. Sì, peccato che lo snatura per un certo verso. Non completamente, però. Allora, lui sostiene che l'Antico Testamento non parli di Dio. E allora dice, come? Come? La Bibbia, l'Antico Testamento, gli ebrei, quanto sono religiosi, non c'è Dio. E Biglino dice, no, è stato interpretato, la parola Dio è stata interpretata in maniera molto strumentale, voluta. In realtà è un testo che parla molto di più di guerra, conflitti fra tribù, fra fazioni opposte, e di, in un certo modo, delle popolazioni extraterrestri che hanno colonizzato la Terra e che si sono ibridate, o in un qualche modo hanno manipolato, adesso lì non mi ricordo benissimo, manipolato i geni umani. e mi sembra aver compreso, soprattutto per avere una sorta di di schiavetti, cioè dei lavoratori, dei, sì, dei servi. L'umano, in gran popolini, racconta di guerre, appunto, di conflitti anche fra queste forze venute dallo spazio. Qual è il problema di tutto ciò? Allora, da una parte non c'è un problema, nel senso che condivido questa cosa abbastanza ovvia. Se voi leggete l'Antico Testamento, se l'avete letto, sapete di cosa parlo, e in gran parte, veramente, non sembra per nulla un testo spirituale. È orrendo, è pieno di violenza, stupri, donne massacrate, lapidate, Dio che tortura le persone che non seguono i suoi comandamenti, li metta alla prova, li inganna per poi... Insomma, c'è veramente di tutto tranne che amore e spiritualità. E questo concordo pienamente con quel che dice Biglino. È un testo di guerra. Fermi però, non tutto, perché ci sono molti passaggi all'interno che sono sapienziali, di filosofia, d'amore addirittura, quelle che il libro l'ecclesiaste, uno forse di più... con dei passaggi molto sapienziali, spirituali. Quindi, se ci concentriamo sulla grande massa delle pagine di questo testo, sì, siamo più, veramente, in una dimensione occhio per occhio, dente per dente, il Dio punitivo, vendicativo, geloso. E poi ci sono grandi colpi di illuminazione. Questo perché, secondo me, è un testo che fa un po' da enciclopedia. Cioè, al tempo, dovete pensare che non era come oggi. Ah, tu hai scritto quel testo, lo stampiamo, lo mettiamo da parte, scriviamo sotto l'autore, la data, la casa editrice. Sì, buonanotte, c'era un passaggio molto orale, tradizioni, cose, forse, sì, venivano trascritte, si perdevano, le guerre. Alla fine, si è creato un libro che, appunto, legava assieme tantissime cose, temi, filoni, eventi del passato. Allora, dentro trovi delle parti che sembrano un po' dei libri di storia nostri, molto sanguigni, oltretutto violenti, però siamo 3.500, 3.700 anni fa. Capite già? Noi oggi massacriamo, uccidiamo donne, facciamo cose indegne, figuratevi, 3.700 anni fa e non c'era nemmeno stata la predicazione del Buddha, nemmeno il Cristo, cioè mancavano proprio dei salti di consapevolezza. Poi abbiamo dei pezzi, invece, che sono di sapienza, qualcuno era sapiente, qualcuno aveva avuto una connessione interiore, quindi calmi, cioè direbbi Lino, ok, è un testo che in gran parte non parla di Dio, ma in molte parti rimanda alla dimensione interiore. Poi, quando interviene con il suo discorso su ci sono chiari riferimenti alla visita di entità extraterrestri, eccetera, io posso anche credere, soprattutto ve lo dico sinceramente, penso che questo infinito universo sia abitato da infiniti esseri viventi e spero molto che tanti di questi siano molto più evoluti di noi. Quindi, non resterei stupito, non mi stupisco nell'ipotizzare che millenni fa la cultura del tempo vedesse, potesse interpretare ad esempio l'avvistamento di una navicella o fossero anche proprio scesi sulla terra degli extraterrestri, tutto sarebbe stato interpretato dentro appunto un filone teologico, esoterico, mistico, scarsamente scientifico. Quindi, ecco che la nuvola, il raggio, eccetera. Ma a che pro tutto ciò? Cioè, può essere, però, ok, questo è il biglinismo, cioè, glielo lascio a lui tutto questo discorso, però non deve rivenire totale perché dentro quei testi ci sono dei riferimenti alla nostra interiorità e soprattutto nel passaggio nei Vangeli. Quando arriva la predicazione di Cristo si capisce che è esplosa una luce perché il Cristo è la frattura totale a mio avviso e qui alcuni mi hanno criticato. no, Gesù stesso dice che lui non è venuto per, è venuto a rendere la legge, a portare a compimento la legge e non a distruggere la legge del passato. Sì, portare a compimento però potete anche capire che la compio è perfetta. Anche perché, scusatemi, ma usate un attimo il ragionamento, già l'hanno ammazzato così. Se avesse detto apertamente e gli scrive i farisei guardate che sono venuto qua a radere al suolo la vostra cultura se il poverino non avrebbe fatto due passi allora spesse volte si vede che il Cristo usa una dialettica molto gentile e sofisticata per scivolare via dalla situazione critica perché intorno a sé ha delle persone che in realtà lo contrastano e lo vorrebbero eliminare perché porta un messaggio che distrugge il sistema piramidale che c'era anche al tempo. avevamo Ponzio Pilato Erode gli scrivi i farisei c'era tutta una struttura e lui col suo asinello in giro che parlava della liberazione del popolo a livello spirituale Giuda l'ha pure frainteso l'ha venduto per quattro soldi convinto che si sarebbe scatenata la rivoluzione e tac e l'hanno ucciso. È evidente che Gesù è una svolta ed è una svolta proprio nella dimensione della punizione della violenza l'occhio per occhio con le sue parole porgi l'altra guancia quante volte sette volte sette è un messaggio d'amore allora se noi iniziamo ad interpretare tutto attraverso transumanesimo scientismo adesso addirittura gli alieni che ci hanno ibridati Gesù è venuto giù da una stella ed è un alieno adesso scherzo ma vedete che mettiamo tutto là fuori ecco è la malattia devastante del nostro tempo benissimo la scienza ma deve essere funzionale alla coscienza risvegliata benissimo leggere anche dei fatti dei testi passati forse noi siamo stati abitati da altre civiltà forse ancora oggi svolazzano nei nostri cieli ma cosa vuoi che se ne facciano di noi non avranno mai un contatto con noi se non ci risvegliamo perché siamo orrendi siamo oscuri allora la mia osservazione è su questi punti nell'antico testamento e qui chiudo ci sono veramente sono d'accordo con lui tantissimi riferimenti di guerra e poi lascio a lui tutto quello che ritiene di aver scoperto ma non mi interessa perché io quando leggo dei testi dell'antichità che si dice parlino di spiritualità cerco di vedere se c'è quella strada indicata e c'è anche nell'antico testamento poco dal mio punto di vista poco i Vangeli sono un'altra cosa e fatalità in quel periodo se guardate 500 anni prima di Cristo abbiamo il Buddha in Oriente poi viene il Cristo nello stesso tempo dal Buddha abbiamo questi livelli giganteschi di filosofia nella Grecia Antica Socrate Platone cioè in quel momento la storia dell'umanità ha vissuto un grande risveglio e si nota si nota la trasversalità di quei messaggi noi dobbiamo cogliere quei messaggi per vedere cosa indicavano veramente e stavano indicando il tuo spazio interiore come un iceberg la testolina è fuori ma è piccola così quello è il mondo dei sensi è il mondo della materia la scienza si puoi puoi vivere anche 150 anni forse la scienza riuscirà a fare dei grandi miracoli ma sotto l'iceberg è molto più grande e sotto ancora c'è l'immensità dell'oceano questo noi siamo realmente ma non guardiamo più laggiù non riusciamo più a stare in quel silenzio che lentamente svuota la mente che libera il cuore e apre delle porte diverse di percezione che non funzionano attraverso i cinque sensi quello è il pericolo del biglinismo che va tantissimo ma può scollegare sempre di più le persone allora senti qualcuno che dice ah ma la religione è fuffa in realtà era tutta una storia travisata probabilmente ma me l'ha detto più di qualcuno probabilmente sono episodi di civiltà aliene che ci hanno visitato può morto di nuovo il discorso ma hai letto i vangeli hai sentito quelle parole che indicano quel mistero che è dentro di te ecco questo è il punto vi leggo e vi saluto con questa frase proprio dall'antico testamento tanto per dire che ci sono delle frasi illuminanti dei passaggi importantissimi quellet che è uno forse dei libri più belli l'ecclesiaste quellet c'è un passaggio sapienza 1 no quellet 2.14 dice il saggio ha gli occhi in fronte ma lo stolto cammina nel buio sentite l'affinità col terzo occhio dell'oriente è metaforico indica un qualcosa di interno perché che parole uso per spiegarti qualcosa che non conosci la metafora il saggio ha l'occhio in fronte è l'occhio dell'intuizione è l'occhio della consapevolezza interna che in profonda meditazione si percepisce molti mistici hanno parlato di una potente luce che si che si inizia a sentire a livello del terzo occhio invece lo stolto cammina nel buio attraverso i cinque sensi si vede tutto là fuori e si perde sino a sognare di divenire immortale attraverso la costruzione l'ibridazione meccanica lo scientismo e tutto quel che ci va dietro quelet il saggio all'occhio in fronte capite il rimando all'interiorità bene vi lascio al vostro occhio in fronte ci vediamo al prossimo video